Ma in realtà in questo caso io sono semplicemente stata ferita dal fatto che Manila in un mio momento in cui stavo male passava il tempo a stare vicina a Delia e non vicina a me, ma non che non dovesse stare con lei o comprendere lei. Semplicemente io mi aspettavo, come mi aspettavo da tre giorni prima, un minimo di venire da me e parlare e non è stato fatto. Dopo la puntata non è stato fatto e ad oggi non è stato fatto. Un'amica vera, come è sempre detto, è la prima che ti viene a parlare di cose e che non parla alle tue spalle e soprattutto poi dando corda a un gruppetto di persone che non vedono l'ora di buttarmi il fango addosso e di fare questo modo di tutto contro di me. Ci sono riuscite in questo momento, secondo te. Ma sì, ma ci saranno pure riuscite, se si accontentano di così poco a me va benissimo, a me non serve tutto questo. Ok, Manila, Manila, voglio sentire un po' tutti, per cui chiedo brevità. Manila, ma tu e Soleil, la situazione è ben chiara, perché poi l'hai spiegata, però voglio chiederti una cosa specifica. Tu e Soleil, ritornerete amiche o pensi che questa sia una frattura insanabile? Voglio dire una cosa, Soleil però voglio che sia sincera. Io l'ho cercata, nei tre giorni che è arrivata Delia, l'ho cercata, c'era anche Katia, e ti ho detto anche quando eravamo qui. Siete venute in un momento una volta, entrambe, Katia sì, ma tu sei venuta, scusami, stai dicendo una cosa non vera. Se mi fai parlare, mi fai parlare. Stai dicendo una cosa non vera, ti dico una cosa, sei venuta quando io stavo avendo un momento giù. Anche tu hai detto cose non vere, non ti ho interrotto. Io ho detto semplicemente che non volevo parlarne in quel momento prima della puntata perché stavo male. Non ti ho cercato lì, martedì mattina, sono venuta a portarti. Io l'ho fatto apposta ad aspettarti, Manila, e tu mi hai dimostrato questo. Sole, forse tu non hai capito, io non sono una ragazzina, sono una donna. Grazie a tutti.